L'esibizione di un domandare metafisico. Martin Heidegger. Che cos'è la metafisica? L'esistenza scientifica. I campi delle scienze si trovano lontani l'uno dall'altro. Il modo di trattare i loro oggetti è fondamentalmente diverso. Questa disgregata pluralità di discipline oggi viene ancora tenuta assieme solo grazie all'organizzazione tecnica di università e facoltà e mantenuta significativa attraverso la finalità pratica delle materie. Il radicamento delle scienze nel loro fondamento essenziale è invece inaridito. Tuttavia, in tutte le scienze siamo in rapporto, seguendo il loro più proprio intento, con l'esistenza stessa. Proprio dal punto di vista delle scienze, nessun campo prevale sugli altri, né la natura sulla storia, né viceversa. Nessun modo di trattare gli oggetti è superiore all'altro. La conoscenza matematica ha solo il carattere dell'esattezza, che non coincide con il rigore. Richiedere esattezza alla storiografia vorrebbe dire trasgredire l'idea del rigore, che è specifico delle scienze umane. Il riferimento col mondo, che domina tutte le scienze in quanto tali, fa loro cercare l'esistente stesso, per renderlo, secondo la sua quiddità e il suo modo d'essere, oggetto di una ricerca e di una determinazione delle cause. Nelle scienze si compie, secondo il loro ideale, un venire nelle vicinanze dell'essenziale di tutte le cose. Questo speciale riferimento col mondo, con l'esistente stesso, è portato e guidato da un atteggiamento liberamente scelto dell'esistenza umana. Con l'esistente è certo in rapporto anche qualsiasi azione prescientifica ed extrascientifica dell'uomo. Ma la scienza ha la sua particolarità nel fatto che, in un modo ad essa proprio, dà la prima e l'ultima parola espressamente e unicamente alla cosa stessa. In questa oggettività del domandare, determinare e motivare, si realizza una sottomissione, limitata in un modo peculiare all'esistente stesso, di modo che tocchi ad esso rivelarsi. Questo servizio della ricerca e dell'insegnamento diviene, sviluppandosi, fondamento della possibilità di una guida propria, seppure limitata, nell'intera esistenza umana. Lo speciale riferimento della scienza col mondo e l'atteggiamento dell'uomo che lo guida sono ovviamente pienamente compresi solo allorquando vediamo e afferriamo che cosa avviene nel riferimento col mondo così tenuto. L'uomo, che è tra l'altro un esistente, fa scienza. In questo fare, tra i ben, accade nulla di meno che l'irruzione di un esistente, chiamato uomo, nell'interezza dell'esistente, cosicché in questa eruzione e a causa di essa, l'esistente si schiude nella sua quidità e qualità. A suo modo, questa eruzione di schiudente procura all'esistente anzitutto se stesso.